LINGUE ORIGINALI Max e Moritz, due ragazzini davvero terribili. Nell'introduzione alle puntate precedenti li ho paragonati ai protagonisti della serie Le simpatiche canaglie. Forse Max e Moritz vanno un po' oltre. È difficile scorgere il confine fra l'allegria, la naturale spregiudicatezza di questi due bambini e una nota di cattiveria. Beh, sono in tanti ad aver letto questa raccolta di scherzi di Willem Bush ad avere il dubbio. Anche chi vi parla, Dario Albertini, non sa esattamente se sia goliardia, cattiveria o un'alchimia tra questi due aspetti. E l'altra domanda che sorge spontanea è quanto il loro papà letterario, Willem Bush, ricordo, nato nel 1832 e scomparso nel 1908, abbia messo di sé nella personalità di questi due ragazzini. Il libro, che vuole essere una forma di espressione umoristica, perché umorista era Willem Bush, è stato pubblicato nel 1865 e aveva, ha per sottotitolo, una storia per bambini in sette scherzi. Pensate che questa raccolta è considerata tutt'oggi l'antesignana, la mamma della tradizione fumettistica contemporanea. C'è un prologo, un epilogo e in mezzo questi sette scherzi di cui, nella puntata dedicata alla lingua tedesca, di lingue originali, abbiamo già ascoltato i primi due. In quella che vi sto presentando, ascolteremo sempre in lingua tedesca il terzo. Però, però, a grandi e giovani dentro e fuori, io suggerisco la lettura del testo in lingua italiana, perché ne esiste una edizione italiana, io vi dico quella di Modern Publishing House del 2009, ma ce ne sono altre. Quindi, Max e Moritz, con la traduzione di Franco Fava, penna dell'autore, quella di Willem Bush, lo trovate anche in lingua italiana. Noi invece oggi, come dicevo, ascoltiamo il terzo di questi sette scherzi inventati, chissà, sono inventati da Willem Bush, come sempre dalla voce della nostra Nadia Meroni. Buon ascolto con lingue originali. Dritter streich. Jedermann im dorfe kannte einen der sich Böck benannte. Alltagsröcke, sonntagsröcke, lange hosen, spitze frecke, vesten mit bequemen taschen, warme mentel und gamaschen. Alle diese kleidungssache wusste Schneiderböck zu machen. Oder wäre was zu pflicken, abzuschneiden, anzustücken oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose. Wie und wo und was es sei, hinten vorne einerlei, alles machte der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum, so hatte in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdreißig machten. Nämlich vor dem Meistershause floss ein Wasser mit Gebrausen. Übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge Ritzratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, dutzigen Böck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck! Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn er diese fuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schneller springt er mit der Elle über seines Ausschwellen. Denn schon wieder ihm zu Schreck, tönt ein lautes, meck, meck, meck! Und schon ist er auf der Brücke. Kracks, die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es, meck, meck, meck! Plups, das ist der Schneider weg. Gerade als diese vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen. Welches Böck in Todesast, krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert her auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem. Wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein Assisches Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf, hinunter, ist es. Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich. Grazie a Nadia Meroni per averci tenuto compagnia con la lettura in lingua tedesca. Lingue originali è in onda su Caffè Italia ogni venerdì sabato e domenica alle ore 22, con le più belle pagine di letteratura lette nella lingua madre dei rispettivi autori. Il venerdì sera Marco Piovaz legge in lingua inglese, il sabato sera Nadia Meroni in lingua tedesca, la domenica sera Barbara Marchand legge in lingua francese. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Lingue originali su Caffè Italia, il caffè letterario in radio e podcast, dalla Roma italiano e non solo. Lingue originali